5 edifici storici che chiedono solo di essere salvati. Sono le scuole padovane il cui patrimonio storico-artistico rischia di essere perduto a causa del blocco del patto di stabilità che impedisce di utilizzare i soldi utili per le ristrutturazioni. Ma ecco che con il neo-premier Renzi, deciso a investire sulle scuole, si accende una speranza e Padova non ha dubbi su dove iniziare. Avremo bisogno di 5, 6, 7 milioni solo per ristrutturare e restaurare, come ci viene chiesto dalle sovrintendenze, le scuole più storiche. Nel frattempo l'amministrazione non è stata con le mani in mano? Abbiamo investito più di 55 milioni in questi anni, quindi su più di 100 edifici abbiamo portato un livello della sicurezza, della agibilità, della vivibilità e della qualità degli ambienti ad un livello più che sufficiente direi buono. Ma ora ha bisogno di nuovi fondi per sistemare le scuole. È per questo che già da tempo l'assessore Pirona ha preparato un piano di progettualità valido per tutta Italia. A Padova abbiamo fatto appunto un piano scuola già nel 2009, che a livello nazionale abbiamo suggerito, dove con 20 miliardi si può per tre anni dare lavoro a più di mezzo milione di persone. Ed è qui che l'assessore Pirona rilancia l'ivito a Renzi, un incontro con Lancio nazionale per analizzare la situazione del paese. Renzi ci convochi, ci dia modo e tempo per ragionare e vedrà che nel giro di pochi mesi potremmo già avere i primi appalti. E chissà che il dossier dell'assessore Pirona non finisca più presto tra le mani del presidente Renzi.